Nel prossimo video parleremo con Alberto Zaccheroni, l'allenatore che ha portato la vittoria del centenario, lo scudetto del centenario, lo scudetto numero 16 del Milan, che ha vissuto una settimana, la stessa settimana che sta vivendo Stefano Pioli. Ma in questo video voglio parlare un po' di mercato, ma partendo per distrarci un po', in ogni caso di cose fresche da dire non ci sono, per quello che riguarda il discorso biglietti sappiamo che questa mattina tutti i siti sono impazziti, ci sarà probabilmente solo qualche fortunato in mezzo ai centomila che avrebbero voluto essere allo stadio Mappei domenica prossima alle ore 18 per questa finale, perché si tratta di finale. Lo immaginavamo, ci sono anche notizie per quello che riguarda l'eventuale megaschermo, visto che l'Inter gioca nello stesso momento, non credo che per questioni sia di ordine pubblico che di opportunità, non credo che ci siano di megaschermi come il 23 maggio del 1999 magari all'Arena o in Piazza Duomo o da qualche altra parte. Vediamo se nei prossimi giorni cambierà qualcosa in questo senso, ma per adesso non si parla, ripeto, visto che gioca l'Inter nello stesso orario, quindi per evitare, non ci sono stati mai grandi problemi tra le due tifoserie, però c'è la tensione, quindi forse eviteranno, però è una decisione che verrà presa se non l'hanno già presa nei prossimi giorni. Però una notizia curiosa che parla della prossima estate, però intanto è curiosa, perché ormai da credo 45 anni più o meno, 46 anni, il Milan a tutti i ritiri li ha sempre effettuati a Milanello, proprio appena ritornato il presidente Berlusconi, camera e con l'aria condizionata, il televisore, vicino alla Malpensa per le trasferte per le amichevoli, quindi considerata la soluzione ideale, addirittura in questa epoca più moderna a volte i giocatori non stanno neanche in ritiro, vanno a casa la sera, quindi è cambiato tutto, ma c'è una novità, c'è una novità, non è, ripeto, sicura al 100%, ma me l'hanno detta come possibile, se non addirittura probabile. Il Milan non rimarrà a Milanello per tutti i giorni di ritiro, ma farà come tante altre squadre che vanno in località più fresche, in montagna, si andrà anche il Milan in una località fresca, in Austria. Quando passate il Tarvisio, la prima o la seconda città è Villach in Austria. Il Milan dovrebbe stare una settimana, secondo i giornali austriaci, perché questa notizia viene dai giornali austriaci, ma non me l'hanno totalmente smentita qui a Milano, quindi dovrebbe stare una settimana, quindi qualcuno se volesse stare vicino ai ragazzi, dal 23 al 30 luglio a Villach in Austria. Lì il Milan giocherà probabilmente da quelle parti un amichevole e mi dicono che oltretutto c'è una buona possibilità che se servisse un aereo per un amichevole in Inghilterra o da qualche parte il Milan avrebbe anche abbastanza facile da prendere, quindi non dovrebbero percorrere tanti chilometri per prendere poi e andare in aeroporto più vicino e partire per un eventuale amichevole. Quindi attenzione, è un po' una novità, ve lo dico perché magari, ripeto, possiate come i tanti tifosi napoletani o i tifosi Granata o i tifosi della Juventus, che a volte capita, vanno proprio dove l'Inter, quando andava mi sembra a Pinzolo, vanno proprio per stare insieme una settimana, conciliano la settimana di vacanza con la settimana insieme ai propri giocatori. Ricordate, c'è molta possibilità che dal 23 al 30 di luglio il Milan vada a Villach, passato il Tarvisio, Milano, Udine, Tarvisio, giù Villach. Quindi località austriaca, molto fresca, molto bella, i Gerani, eccetera, eccetera. Ricorda sempre ovviamente il Tirolo, questa zona, anche se quello è più lontano. Quindi questa è la notizia che vi volevo dare, a me piace dare notizie, è una notizia abbastanza fondata, anche se non sicura, nata dai giornali austriaci e non totalmente smentita qui a Milano. Quindi questa è la prima notizia. E dicevo che volevo parlare un pochettino di calcio mercato oggi, perché ormai cinque giorni alla finale di Reggio Emilia, ma poi sei giorni all'inizio del calcio mercato. Quale sarà il primo movimento? Io credo che il primo movimento sarà l'acquisizione, l'ufficializzazione dell'acquisizione di Origi. Credo che sia lui, ormai sembra che siamo in dirittura d'arrivo. Molti pronosticano un tris molto rapido con Sanchez, Botman e Origi, ma lì andrei un attimo cauto. Origi, visto che oltretutto arriva a costo zero, non credo proprio che ci siano ormai problemi. Poi vedremo se il giocatore riuscirà subito nelle prime amichevoli quando lo conosceremo meglio, perché anche lui deve assuefarsi ai 90 minuti, non gioca titolare da tantissimo tempo. Quindi è un giocatore un po' non per i dirigenti che l'hanno acquistato, ma per noi da scoprire. Bisogna vedere poi la situazione Botman. Botman è un giocatore fondamentale per la sua altezza, la sua fisicità. Costa 25-30 milioni di euro. Bisogna vedere poi il Milan come valuterà, visto che ha questo Tomori e Kalulu, che in questo momento sono una coppia formidabile. Però non dobbiamo dimenticare anche che il Milan, ripeto ancora una volta, giocherà nel weekend del 14, 21-28, poi il 31 che è un mercoledì. Quindi praticamente giocherà sempre poi la Coppa dei Campioni, quindi non possono giocare tutta la stagione Tomori e Kalulu. Quindi è da esaminare ovviamente anche la possibilità di prendere Botman, anche se qualcuno potrebbe pensare che investiamo su Botman, che abbiamo già due grandi giocatori, o magari tenendo i romagnoli non prendiamo Botman. Io credo che alla fine comunque Botman arriverà e potrebbe essere il terzo acquisto. Bisogna vedere se prima Sanchez o prima lui. Secondo me però la grande domanda, venendo Sanchez potrebbe fare il numero 10, è lì sulla fascia destra. La fascia destra è il vero ruolo da potenziare, è il ruolo dove ci sono due buoni giocatori, ma noi dobbiamo pensare ai giocatori di caratura europea, giocatori da Champions League. Confermeranno Messias magari cedendo Selemeker, quindi tenendo l'estro e cedendo un giocatore che poi anche avrà mercato e potrebbe portare una buona plusvalenza, giocatore anche di quantità, o terranno il giocatore di quantità magari inserendo i Berardi o il Deulofeo della situazione. Questa è la domanda chiave per quel ruolo, che è il ruolo più delicato dove il Milan deve certamente intervenire potenziando il reparto. Deulofeo è sufficiente? Beh, indubbiamente se tu compri già, praticamente se tu prendi Botman, Sanchez e Origi, il mercato al 70% è finito, perché poi arriva Adli, arriva Pobega, ai Krulic, Tonali e Benasser. Non è che possano prendere 50 centrocampisti, visto che giochiamo a due, massimo a tre, ma non è mai succedere raramente. Sanchez può alternarsi a Dia se tu sei a posto. Bisogna vedere se poi si vanno su un terzo attaccante centrale, ma c'è sempre Rebic che può aiutare, quindi anche questo è una valutazione, tornerà a Colombo, ma credo che debba ritornare per poi ripartire, quindi anche questo punto va esaminato. È la fascia destra, è la fascia destra il ruolo più delicato, dove non si deve sbagliare, dove bisogna trovare un giocatore con un buon passo, con un buon piede, con una buona qualità, con un buono carisma, giocatore abituato a giocare a alti livelli. Potrebbe essere sempre Berardi, però il Milan non credo che investirà tantissimo su un ragazzo di 28 anni. Io tutto questo, tutto questo, lo dico, con Elliot alla proprietà. Io in questo momento, signori, vi garantisco, è Elliot che sta facendo il mercato, è Elliot che sta conducendo le trattative, è Elliot che sta lavorando in questo senso, anche per i rinnovi. E a questo proposito, nel prossimo video, appena ci sarà la notizia, vi daremo le ultime sulla decisione del Tribunale per quello che riguarda il caso Leao, perché credo che sia oggi il 17, oggi è il 17 e quindi oggi si radunava il TAS per dare finalmente quella che dovrebbe essere la sentenza definitiva e da lì in avanti si potrà, il Milan potrà capire quali offerte eventualmente fare a Leao, magari inserendo un aiuto, dovesse lui pagare delle cifre, sarebbero cifre importanti allo Sporting di Lisbona, quindi una situazione da monitorare. Però in questo momento il mercato è il mercato di Elliot. Oggi c'è stato un comunicato, un'intervista a un'alta figura di Invescorp, però non ci sono grandi novità, ha detto che stanno entrando anche loro nel mondo dello sport perché ritengono che sia un mondo soprattutto per quello che riguarda le squadre europee sottovalutato e quindi stanno entrando, ma sono frasi interlocutorie. Io credo che la settimana prossima sia decisiva per capire se andare da una parte o dall'altra, anzi tre parti. È un bivio, prima uscita, seconda uscita, terza uscita. La prima uscita potrebbe essere il fatto che rimanga Elliot, la seconda uscita che si vada su Invescorp, la terza uscita che si vada su Redburg. Vedremo settimana prossima però a bocce ferme, a pallone fermo e vediamo un po' quando il Milan poi tanto chiuderà i battenti per quello che riguarda il calcio giocato e apriranno le porte ai procuratori Ricky Massara e Paolo Maldini per i rinnovi, per capire quale giocatore prendere, quale punto, quale ruolo rafforzare, quale lacuna abbia ancora la squadra. Tutto questo, se il Milan riuscisse a essere così bravo di vincere il campionato, è tutta un'altra cosa lavorare con lo scudetto sul petto, ma per lo scudetto sul petto bisogna giocare quei 90 minuti. Oggi ha anche parlato Carnevale, Giovanni Carnevale, intervistato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, non si è sbilanciato, tutti sanno che sia un buon amico di Marotta, ma lui sostiene di essere buon amico e non abbiamo dubbi anche di Maldini e poi anche di Massara che è stato suo giocatore come Allegri nel Pavia, quindi profilo basso anche da parte di Giovanni Carnevale, ovviamente c'è una grande pressione sul Sassuolo, ci sono i tifosi dell'Inter che si augurano che Scamacca e Raspadori e Traoré e Berardi giochino una grande partita e in effetti sono tutti giocatori molto pericolosi e d'altra parte invece il tifoso del Milan si augura di trovare un Sassuolo certo impegnato ma senza magari grandi stimoli. A me quello che interessa non è la squadra avversaria, interessa che il Milan sia giochi come nelle ultime partite, superi ostacoli importanti come è riuscito con la Lazio contro la Fiorentina, contro il Verona, contro l'Atalanta e dunque questa è la speranza, anzi è la certezza mia visto che il Milan in questo momento a livello di testa sta bene, non ha mai staccato, oggi riprendono gli allenamenti con la testa giusta, la testa che Stefano Pioli vuole che abbiano i suoi giocatori. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti e attivate la campanella.